La stretta era stata annunciata dalla prefettura di Pesaro e Urbino. Nelle giornate di sabato, domenica e lunedì, oltre 250 uomini e donne delle forze dell'ordine sono stati impegnati nell'attività di controllo sul rispetto delle norme anticontagio. In totale sono state controllate oltre 2000 persone, di cui 103 sanzionate e quasi 600 attività commerciali. Tre di queste sono state multate e chiuse. A Fano, come riporta l'assessore alla Polizia Locale Sara Cucchiarini, i cittadini sono stati piuttosto disciplinati. Sono stati controlli numerosissimi, abbiamo fatto un'attività coordinata a Polizia Locale con tutte le forze dell'ordine, guidate appunto su indicazione del prefetto e abbiamo svolto un'attività dalle 7.30 fino alle 24 di mattina per tre giorni di zona rossa, con numerosissimi controlli alle persone che passeggiavano, quindi 150 persone all'incirco sono state fermate e individuate. Poco più di una settantina i controlli alle attività commerciali nei tre giorni e devo dire che registriamo con grande soddisfazione, un certo orgoglio, una grande responsabilità da parte dei fanesi perché comunque le persone trovate a passeggiare erano veramente pochissime, tutte comunque nelle zone di loro abitazione, di residenza, per cui perfettamente in regola. Stessa cosa per le attività commerciali. Dunque nessuna multa per il mancato rispetto delle norme anti-covid. Sono state elevate invece 27 sanzioni per la violazione del codice della strada e in particolare per il transito in ZDL senza averne il permesso. Massima attenzione c'è stata per Lungomare, tutto dalla Gimarra fino a Ponte Sasso e massimamente i parchi con il coinvolgimento anche della protezione civile guidata dalla polizia locale di Fano. Però sono state controllate anche su strada le porte principali della città, alcune zone come via Pisacane, via Buozzi, ma comunque tutti i quartieri sono stati presidiati ed è stato sicuramente anche più semplice perché comunque la buona condotta dei fanesi non ha portato a doversi fermare particolarmente in zone di assembramento che non ci sono state. I controlli, aggiunge l'assessore, proseguiranno anche nei prossimi giorni. Bisogna rimanere attenti, questo è l'auspicio e anche la raccomandazione che mi sento di fare attraverso Fano TV. I controlli saranno comunque costanti, ma prendendo in considerazione il fatto che comunque siamo in zona arancione per cui ci saranno la possibilità di fare maggiori cose.